la sedia a zraio a zraio a zraio a zraio Grazie a tutti. Grazie. Piano. Salve. No, no, no. Questa prima mattina... Uguale alla sera? No, ma così brutta. La sera mi trovo. No, no. 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 No, Giuseppe. Doveva andare a fare la ricerca delle perfezioni. E Mauro? No, no. No, no. Non l'ho voluto portare. Non l'ho portata. Non l'ho portata. Non l'ho portata. Non l'ho portata. Vado. Non l'ho portata. Vado. Ricordate com'era? Guardate ora. Pulitissimo. I vicini di casa hanno detto che era cinquant'anni che non si vedeva un promontorio pulito così. Questo era il tratto più peccaminoso. Questi ultimi ancora si affermano. È probabile che non ce la fai. Pronti? No, posso dire che mio figlio è più fortunato di me. Perché lui ha dovuto aspettare 23 anni per vedere una scogliera pulita. Io ne ho dovuto aspettare 42. Con la speranza che non vedeva una scogliera pulita tra 42 anni. Solamente questa è la speranza. E grazie a tutti quanti perché non mi aspettavo di tanta partecipazione. Grazie. È la prima volta. Uno chiede aiuto e ha qualcuno che gli risponda. Perché fino adesso l'aiuto è stato come un grido nell'esempio. È la prima volta. Posso dire una cosa anch'io? Il prossimo appuntamento tutti con i bastoni a bastonare coloro che vengono a spostare. Non sarebbe male. No, no, assolutamente. Va bene. Io poi volevo dire un'altra cosa. Io capisco i preservativi. Ma con la carta metrata c'è cozza qua c'è. Con l'affinate. Se ti lavi tutti i giorni non ne hai bisogno. Perché avete trovato i preservativi? No. 35 sacchi. Quanti contro vincono su tutti? È vero. Ascolti, il 50% di queste buste ci sono migliaia di bambini morti. Eh, va bene. Considerando quello che facciamo ogni giorno noi che ci portiamo i sacchetti da casa tutte le mattine, scendiamo al mare muniti di buste. Sì, non abbiamo l'asciugamane, abbiamo le buste e il bambino. È vero, è vero. Tutte le mattine lo facciamo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.